Sì, diciamo vero, abbiamo fatto una partita molto buona, la scelta di Coffi è stata dettata per due situazioni, una, quella che ormai in questo momento, avendo perso anche Zecca per qualche giorno, ho solo due attaccanti centrali, quindi l'idea di partire con Nani avevo paura di non riuscire a cambiare la partita in corso eventualmente. La seconda lettura è stata il fatto che sapevo che questa squadra aggrediva nella nostra metà campo e quindi magari un giocatore più rapido, più bravo a uscire dal pressing, più tecnico, magari poteva rompere gli equilibri più facilmente rispetto alle caratteristiche di Nani. Sì, ti dico la verità, era qualche settimana, comunque da un paio di settimane, che è cresciuto, perché comunque lui al di là dell'aspetto fisico doveva crescere anche sotto l'aspetto ambientale, perché comunque è un ragazzo che viene da un'altra dimensione, comunque a Firenze viveva comunque con gente delle sue zone, con altri ragazzi francesi, qui è un pochino spaisato, quindi c'è avuto un pochino di adattamento, negli ultimi settimane questa cosa era un po' migliorata, era cresciuto e quindi l'ho scelto insomma perché l'ho visto più su Agio e diciamo che ci ho azzeccato perché veramente non sapevo quanto ne potesse avere, invece ha fatto un'ora veramente importante. Eh sì, è chiaro che quando vinci 3-0 in un tempo, prendi un incrocio dei pali rischiando il 4-0, insomma il primo tempo è veramente importante. È chiaro che nel secondo tempo, io ho cercato di fare qualche cambio per cercare di non rovinare neanche il futuro, nel senso ho tolto i due ammoniti, ho cercato di dare minutaggio anche ad altri giocatori che per me sono importanti e poi cercavo di gestire situazioni, l'unica cosa che mi è mancata purtroppo è stata la gestione di Bortolussi, perché io li avrei volentieri tolto 25-30 minuti, ma visto che c'era un paio con dei problemi fisici ho dovuto temporeggiare finché poi Petterman ha chiesto il cambio e non l'ho potuto. Preferivo tutelare Bortolussi, poi per il resto se no è venuto tutto bene perché anche chi è entrato mi è piaciuto, insomma ha fatto molto bene. Allora, la cosa che mi fa molto piacere è proprio quella, nel senso, io avevo chiesto ai ragazzi nel pre-partita di avere come obiettivo, io ero sicuro che se tutti dal centro avanti andando indietro avessero avuto l'obiettivo di non voler prendere gol avremmo vinto facilmente, queste sono state le mie parole. Casualmente con questo input abbiamo fatto anche tre gol e è venuta la partita ideale, diciamo così. Ti dico, mi fa molto piacere per i ragazzi perché se lo meritavano avevano una voglia di dare questa soddisfazione comunque ai nostri tifosi in casa, anche se purtroppo ce ne sono molto pochi, però passeggiando per la città in questi giorni, dai, in molti ci stimolavano, insomma ci incitavano a ridare questa soddisfazione, questa vittoria in casa e quindi siamo molto contenti di averla data ai nostri tifosi che onestamente ci mancano davvero tanto perché è veramente difficile giocare con questa atmosfera. Satalino, gli è rimasto il piede sotto, nel contrasto una leggera distorsione, ha la caviglia leggermente gonfia, l'entità non ve lo so dire, nel senso comunque sicuramente una distorsione alla caviglia. No, forse l'anno scorso ho aspettato un po' di più, ma cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra, di lavorare, poi quella è una cosa che viene da sé con il lavoro e con il gioco di squadra. Per me l'importante è aver raggiunto la vittoria stasera e domenica scorsa e continueremo sicuramente a lavorare per portare a casa la vittoria ogni domenica. Il primo è, mi sono trovato sul secondo palo, sulla torre di Longo, e sono riuscito a rimanere in gioco fortunatamente e sono riuscito a spingerla dentro di testa. Il secondo... Come? L'avete trovata questa cosa qua? L'avete trovata? Ma sì, sono palle che il mister ci chiede di stare sempre attenti e vicili, perché comunque durante l'arco della partita possono capitare, soprattutto in un'azione come quella che ci è stata messa una palla in mezzo e Longo l'ha rimessa dentro, quindi il mister ci chiede spesso di rimanere concentrati su questi palloni, su queste seconde palle. Il secondo invece è stata una gran verticalizzazione su una palla rubata, se non sbaglio, una verticalizzazione su Kofi che me l'ha girata di prima e ho calciato prima che arrivasse il difensore. Per me significano tanto, ma penso che dietro significa molto, perché dietro c'è un gran gioco di squadra e mi sento supportato dalla squadra e cerco di mettermi a disposizione, come dicevo prima. Penso che sia il frutto di tanto lavoro di squadra e tutte quelle cose che proviamo in allenamento pian piano ci stanno riuscendo e penso che dobbiamo continuare a lavorare su questa via per riconfermarci domenica dopo domenica. Sì, come dicevo prima, cerco di mettermi a disposizione, ora che non c'è Catturano ho iniziato giocando centravanti e mi trovo comunque bene, l'ho fatto sempre, quindi dove serve cerco di essere disponibile e a disposizione del mister e della squadra. Penso che quella di questa sera sia stata prima di tutto una dimostrazione di forza, di rabbia e la dimostrazione che il gruppo c'è e che l'abbiamo voluta fortemente. Abbiamo lavorato, anche se poco, perché abbiamo avuto due giorni dopo la scorsa partita, abbiamo lavorato poco ma comunque ce l'abbiamo messa tutta e è frutto di un gran lavoro di squadra per come la vedo io. Penso che è stata una bellissima serata e non potevo chiedere di meglio, perché diciamo che per la prima volta entrare in un sito capitano è un'emozione grandissima e poi segnare dopo pochi minuti non potevo chiedere niente di meglio. Sì, sì, sempre i tre gol che ho fatto qui con il Cesena sono stati sempre nei primi minuti. Diciamo che il calore dei tifosi ci manca tantissimo, però devo dire che sono molto ma molto contento del fatto che non abbiamo preso gol. Era un nostro obiettivo che ci eravamo proprio prefissati, perché sappiamo come sono andate le prime giornate e quindi sono molto contento soprattutto di questo e dobbiamo continuare così. Ciao. Sì, sì, soprattutto abbiamo avuto 20 minuti dove eravamo un po' leggerini sulle seconde palle dove magari dovevamo andare più forte, però penso che ci può stare anche perché stiamo facendo tante partite, ma siamo un gruppo completo dove tutti i giocatori sono all'altezza e tutti ci possono dare una mano. Io penso che questa era una partita importantissima per capire quello che vogliamo fare. Io ho sempre detto che siamo un grande gruppo e che può fare grandi cose e passa da queste partite dove bisogna dimostrare il nostro percorso e penso che oggi l'abbiamo dimostrato quale vuole essere. Per me può fare grandi cose perché siamo un gruppo veramente molto molto forte e soprattutto unito e sappiamo quello che vogliamo quindi partita dopo partita ci possiamo levare grandi soddisfazioni.